Donald Trump, presidente degli USA, 28 novembre 2017, a Poto, l'account Twitter di Donald Trump ha rituitato tre video anti-Islam pubblicati da un gruppo di Estrema Destra Britannico. Si tratta di video pubblicati da Ida Franzen, numero 2 di Britain First, gruppo fondato nel 2011 da membri del Partito Nazionale Britannico e che ricorda la BBC ha attirato l'attenzione sui social media denunciando quella che afferma essere l'islamizzazione del Regno Unito. Nel primo dei tre video che sono apparsi nella notte sull'account di Trump viene mostrato quella che si afferma essere un migrante musulmano che attacca un uomo con le stampelle. video, Muslim and Migrant Beats Up Dutch Boy on Cruces, pic, twitter, com, 11 lgbff e lunga di Ida Franzen, chiocciola Ida BF, 28 novembre 2017 dello stesso tenore e gli altri due video. La Franzen, che ha 52.000 follower, ha ovviamente esultato per il fatto che i suoi tweet sono stati condivisi dal presidente USA. Donald Trump stesso ha ritwittato questi video e da circa 44 milioni di follower nel mondo ha scritto Dio benedica Trump, God bless America, virgolette, DPR e SID e NT of the United States. Donald Trump, S-R-T-W-E-T-E-D-T-R-O-V-D-P-U-T-L-I-O-N-F-O-L-L-O-V-E-R-S-E-S-E-R-T-W-E-T-E-D-E-S-E-R-O-N-D-44-M-I-L-L-I-O-N-F-O-L-L-O-V-E-R-S-E-R-S-E-R-S-E-R-E-S-E-R-E-S-E-R-E-S-E-R-E-S-E-R-E-S-E-R-E-S-E-R-E-S-E-R-E-S-E-R- God bless America. OCS-I-I-DA-B-F-I-O-C-C-L-A-R-E-A-L-D-O-N-A-D-T-R-O-M-P-I-C-T-W-T-E-R-E-C-T-R-E-C-C-T-R-E-N-O-V-E-I-DA-F-R-E-S-E-R-E-S-E-R-E-S-E-R-E-S-E-R-E-S-E-R-E-S-E-R-E-S-E-R-E-S-E-R-E-S-E-R-E-S-E-R-E-S-E-R-E-S-E-R-E-S-E-R-E-S-E-R-E- console PI potente al mondo. Ora ha soli 499. 99 maggiore maggiore maggiore.